1, 7, 4, 5, 1, 7. Questo fu il numero tatuato sull'avambraccio sinistro di Primo Levi nel febbraio del 1944 al suo ingresso nel campo di sterminio nazista di Auschwitz. La detenzione durò 11 mesi fino alla liberazione avvenuta il 27 gennaio del 1945 a opera dell'esercito sovietico. Da questa terribile esperienza è nato il libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, che si apre con la poesia che ci viene stasera ricordata dalla presidente della comunità ebraica di Firenze, Daniela Misun. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici. Considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. A distanza di oltre 60 anni, Adriano Soffri ritorna a questa poesia riscrivendola alla luce dei fatti di Rosarno, delle terribili scene che tutti noi abbiamo ben impresse negli occhi. Nei ghetti d'Italia questo non è un uomo. Di nuovo, considerate di nuovo se questo è un uomo, come un rospo a gennaio, che si avvia quando è buio e nebbia e torna quando è nebbia e buio, che stramazza un ciglio di strada. Odora di qui. E' arancia di Natale, conosce tre lingue e non ne parla nessuna, che contende ai topi la sua cena, che ha due ciabatte di scorta, una domanda d'asilo, una laurea in ingegneria, una fotografia e le nasconde sotto i cartoni e dorme sui cartoni, sotto un tetto da mianto o senza tetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.